Ciao ragazzi salve a tutti come avevo detto oggi si sarebbe estratto il vincitore della skin di Harley Quinn bene non siamo arrivati a 76 però che devo dire ragazzi io sono buono e quindi porto avanti lo stesso la vittoria quello che mi dispiace veramente invece che su 320 visualizzazioni per quanto riguarda questo challenge solamente due utenti hanno creduto in me e hanno messo un commento quindi andiamo tutto quanto in diretta andiamo a decidere l'eventuale vincitore fra questi due ragazzi e vi dico già da subito che la persona che perderà riceverà comunque un regalo proprio perché sono stati due e solo due hanno creduto in me allora io crederò in tutti e due loro e fare un regalo a tutti e due cioè fare un regalo al perdente quindi andiamo a copiare il nostro link andiamo sul sito andiamo a incollare il nostro link andiamo a filtrare i duplicati degli utenti che sono all'interno dei commenti andiamo ad escludere l'utente che sono io e andiamo quindi a ricercare i commenti prima andiamo a risolvere il grande problema matematico 7 più 3 a casa mia fa 10 quindi andiamo a vedere quanti commenti abbiamo abbiamo due commenti e in questo momento andremo ad estrarre il vincitore ragazzi partiamo start ha vinto wolf x ragazzi quindi wolf x sarà il fortunato vincitore della skin di arley queen però voglio dire che l'altro ragazzo avrà lo stesso il suo premio per aver creduto in me ragazzi adesso andrò a ricercare ambedue i ragazzi in fortnite li inviterò come amici e gli darò a tutti e due il regalo che gli spetta benissimo ragazzi vi saluto e ci vediamo alla prossima challenge per chiunque vorrà credere nella mia challenge